Benvenuti cari amici followers del canale, finalmente siamo qua. Oggi volevo presentare la bici che userò quest'anno nella stagione di mountain bike. Partiamo dal telaio che è lo stesso dell'anno scorso con la colorazione nuova che io trovo molto carina. Si passa da un arancione sfumato al viola e predomina al bianco che predomina anche sulle nuove divise. Allora per quanto riguarda invece gli ammortizzatori abbiamo RockShox sia anteriore che posteriore entrambi lavorati da Andreani. Il travel anteriore è 110 mentre quello posteriore è da 100 La sella è una classica SLR Boost di incolorazione Team e il reggisella telescopico con travel da 120 della Switch Components Così come Switch Components sono anche le manopole. Per quanto riguarda trasmissione e freni abbiamo Shimano M9120 con pedivelle da 170 e corona da 34 mentre la cassetta è una 1051 I pedali montati sopra sono gli Exuster Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima è un po' cringe farlo qua con montati sopra dei copertoni Maxxis in questo caso degli Aspen da 2.35 no cut da 2.25 allora ricomincio con i cerchi no rifacciamo la trasmissione e corona da 34 la cassetta invece è 10.52 no è 10.51 rifacciamo per quanto riguarda trasmissione la finiamo con quel martello grazie perfetto potrei aver detto tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti